Le parole del difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, prima della sfida contro il Manchester United. Ho ritrovato una Juve sicura di sé e con molta più esperienza, questo è dato da un grande lavoro fatto dalla società e dal mister per alzare il livello di una squadra che era già molto competitiva. Credo che questo sia importante perché la Champions è uno degli obiettivi e non possiamo più nasconderci. Ovvio che fa piacere quando in una squadra come la nostra rinno dei giocatori forti e tra i migliori al mondo. Questo discorso vale per Pogba ma come per tanti altri. Io in cuor mio mi sono sentito e ho avuto la fortuna di fare il percorso inverso rispetto allo scorso anno. Quello che farà Paul dipenderà da lui, non sicuramente da me. Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, parla del match di Champions League tra lo United e la Juve. Allora no, ho pensato che era molto bene per la Juve. Ovviamente di avere un giocatore come Cristiano è sempre bello di averlo in sua squadra. poi giocare con grandi giocatori come Ronaldo, come Messi, come Neymar. È sempre un piacere di giocare con questi giocatori. Oggi alla Juve. Penso che è molto contento di essere qua. E penso che è una grande cosa per la Juve di avere un giocatore che ti fa gol come beve acqua. Il Real Madrid ci avrebbe provato di nuovo con una maxi offerta da 18 milioni di euro a stagione. Ma Maurizio Pocettino avrebbe rifiutato ancora l'offerta dei Blancos di sedersi sulla banchina dei campioni d'Europa. Secondo il Sun, l'allenatore del Tottenham sarebbe la prima scelta del presidente del Real Florentino Perez, che avrebbe cercato il tecnico già quest'estate, dopo il sorprendente addio di Zinedine Zidane. L'argentino, anche in quell'occasione, avrebbe rifiutato. L'attaccante del Paris Saint Germain, Edinson Cavani, parla nel post-partita di Napoli PSG. La partita oggi sono sentito molto emozionato per la gente, il ricevimento, il calore che loro... Sinceramente è qualcosa che rimarrà nel mio cuore, perché mi porto oggi una bellissima emozione. E queste sono le cose... Tu l'hai capito che Napoli ti ama, Edi. Voi sapete anche che per me è stato grandissimo quei tre anni che abbiamo passato qua, e quindi è normale che uno si emoziona.